Tutto pronto per Sanremo 2019 dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston, vai scena alla 69esima edizione del Festival, la Kermess dedicata alla musica italiana, che sarà trasmessa in prima serata sul Rai 1, in gara 24 artisti in un'unica categoria, i Campioni, così come voluto dal direttore artistico Claudio Baglioni, che per il secondo anno consecutivo è anche conduttore della Kermess. Sul palco, in una scenografia disegnata da Francesca Montinaro per avvolgere e coinvolgere il pubblico da casa, il cantautore romano sarà affiancato dalla coppia Claudio Visio e Virginia Raffaele. Gli attori sono già stati all'Ariston come ospiti, ma per entrambi è la prima volta da conduttori.